Sassà Lunedì 17 luglio Buonasera dalla Paratina Soccer Village E' la notte dei sogni e delle stelle La notte in cui si creano le leggende E' la notte della 44esima finale del Torno Interfacoltà Aston Villa contro Sheffield Per una sfida che promette emozioni e spettacolo Partiamo dal presentare l'arbitro dalla sezione di Fortici L'arbitro Biagio Scotti Partiamo con la superformazione dell'Aston Villa Con il numero 1 Giuseppe Winston Blu Manzo Con il numero 69 Danilo Levasore Nasala Con il numero 3 il capitano Tonato il predestinato esposito Con il numero 74 Giuseppe Jonas Naso Con il numero 10 Gaetano Lecquemuffo Cervicato Con il numero 9 Orlando Lapucce Zanfardino Un grande saluto al nostro mister Alessandro Unino Pampi E' il momento di Sheffield Che presenta con il numero 1 Salvatore Reina Di Falco Con il numero 24 il capitano Alessandro Tris D'Ambrosio Con il numero 5 Emanuele Werner Di Vaio Con il numero 7 Fabrizio Cavara Guido Con il numero 10 Giuseppe Osimel Barone Con il numero 3 Gianni Mario Rui della Rocca E con il numero 8 Vincenzo Frattesi Peluso Che vinca il calcio Che vinca il migliore E un buon palluco a tutti Che vinca il migliore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.